La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso, ci limitiamo a vivere intorno allo stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per rispetto. Non è un segreto dai, lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare. Non è un segreto dai, lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare. Non è un segreto dai, lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare. Non è un segreto dai, lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare. Non è un segreto dai, lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare. Non è un segreto dai, lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasc top90, cosa succede la partiti di nasconderlo alla gente che incteri Discord, c'è McMomino e grazie con i alcuni di nascosta che ci vede litigare. La parte della è un segreto dai, lo sanno tutti e treili allo suporti che ci vede litigare, grazie ti voglio bene grazie